carissimi amici terno diamante il terno che non fallisce mai tiro fuori questa giocata e questo terno secco soltanto questa volta e soltanto per pochissimo poi non ci sarà più è un segreto personale per il terno garantito mensile è un terno spia pazzesco sono tre numeri ricavate da una convergenza di spie favolose due adesioni di fedelissimi due adesioni e stop info via whatsapp 3 4 8 7 5 4 7 7 1 5 per l'adesione è un meccanismo di gioco che prevede un solo terno che viene generato per quattro colpi su due ruote ogni quattro colpi c'è il nuovo terno quindi avremo un terno due ruote quattro colpi di gioco quindi viene praticamente generato questo terno con un ciclo di quattro colpi non ha mai fallito il terno a ruota sempre vinto minimo un terno mensile nel 2021 14 terni vinti a ruota attenzione perché do solo due adesioni valuterò se andare o meno oltre ma questo terno diamante è una chicca pazzesca mi raccomando velocissimi vorrei veramente coloro che mi seguono da tanto tempo da anni i fedelissimi su questa giocata perché abbiamo già in gioco tre numeri un terno secco su due ruote che mi piace da morire attenzione al terno diamante cari amici veramente un qualcosa di speciale per adesso un saluto a tutti mister sbancolotto